La presenza delle donne nell'informazione nel mondo anche a livello internazionale è una presenza che sta cambiando, sta aumentando il numero delle donne che vengono raccontate nell'informazione, nei telegiornali, nei radiogiornali, sta aumentando anche la presenza delle giornaliste. Però queste trasformazioni sono tendenzialmente molto molto lente. È un incremento dovuto soprattutto a una maggior rappresentanza delle donne nei ruoli più popolari, cioè le donne come rappresentanti della gente comune, quindi dell'opinione popolare, vale a dire tutti quei servizi che vediamo comunemente in televisione in cui si interpellano le persone per la strada, la famosa gente della strada per raccoglierne un'opinione oppure un'esperienza. Le donne aumentano qui e non aumentano invece come esperte o commentatrici, opinioniste in ruoli che sono in qualche modo più autorevoli ma ancora tutt'oggi a pannaggio maschile. Allora questi sono solamente dei dati, poi ovviamente il rapporto ne raccoglie molti altri, che segnalano che rispetto agli anni scorsi ci sono delle lente trasformazioni, che però appunto sono delle trasformazioni minime e che non vanno a intaccare quelli che sono forse i meccanismi attraverso cui anche l'informazione è strutturata. Mi capitava di accendere un semplice gesto nella televisione e vedevo cose che all'estero non si vedono e quindi la mia reazione era di chiamare amici, parenti, dire ma c'è una cosa, c'è una donna sotto il tavolo. Mi pareva un fatto stranissimo, allarmante e la risposta stranamente era ma è la televisione. Come se fosse intrinseco alla televisione il fatto di mandare in onda immagini oggettivizzanti, mercificanti e umilianti. Ecco, credo che sia stato fatto di avere uno sguardo esterno, quindi di non avere subito quell'avvelenamento, una piccola dose tutti i giorni, che mi ha fatto reagire. E la questione che meraviglia le persone che vivono in altri contesti dove la televisione, le immagini trasmesse sono diverse dalla nostra è la sorpresa per il fatto che ci sia una modalità così normale e così diffusa di rappresentazione delle donne che è essenzialmente attraverso il corpo, l'esibizione del corpo, la sottolineatura di particolari, questa rappresentazione della donna che è tendenzialmente oggettificata ed è oggetto di desiderio. Quindi il prevalere comunque di una immagine del femminile, di un ruolo del femminile che è a disposizione. Io non credo che ci sia reale possibilità di autodeterminarsi quando un mezzo così pervasivo come la televisione propone un quasi unico modello di donna. Io incontro moltissime ragazze giovani che mi dicono che ho 20 anni, da quando ne ho 3 mi hanno messo davanti alla televisione e quello è stato il mio quasi unico strumento di informazione. Ecco, io vorrei che una società evoluta, come dovrebbe essere la nostra, utilizzasse specialmente il servizio pubblico per informare e formare. Dopodiché mi sentirei più tranquilla nel dire sì, sei responsabile di quello che fai. Quindi uno dei temi centrali è sicuramente il discorso degli stereotipi, la rappresentazione stereotipata quindi dei generi all'interno dei contesti sociali che non favorisce il riconoscimento delle peculiarità, delle differenze e molto spesso veicolata attraverso la pubblicità. Basterebbe far notare come una donna e un uomo diventino rappresentanti di stereotipi se vengono interpellati sempre lei in qualità di madre, lui in qualità di esperto di medicina piuttosto che di economia, lei in qualità di casalinga piuttosto che in qualità di assistente alla cura degli anziani. Quindi una prima riflessione che noi potremmo fare forse è proprio questa, cioè iniziare a pensare se tutto quello che ci passa davanti è davvero così scontato, così normale. Una seconda domanda è se questa cosa effettivamente risponde all'esigenza, alla domanda che viene dagli spettatori o forse non risponde a esigenze di altro tipo. Sono questi i programmi che vendono, che vendono pubblicità, che consentono di raccogliere introiti pubblicitari. E arriviamo al punto in televisione, non c'è liberazione sessuale, c'è vendita, c'è mercato. L'Italia è uno dei più grossi mercati pubblicitari, il corpo della donna serve a vendere, quindi la liberazione sta da un'altra parte, parliamone, ma non è quello. Per questo io a volte dico sto dalla parte delle veline, perché il problema non sono quattro ragazzine in mutande, il problema è una televisione che mercifica il corpo per far vendere, non confondiamola con la liberazione, chiamiamola in un altro modo. Da un lato c'è questo principio del rispetto della differenza, della dignità della persona, dall'altro c'è un altro principio fondamentale che è quello della libertà di espressione. Il principio di libertà di espressione guida molte delle politiche, delle scelte che riguardano per esempio la pubblicità. Quindi in molti casi si ha una discrepanza di posizioni anche da parte di chi decide come dovrebbero essere regolamentate queste cose, perché si vuole da un lato rispettare la dignità della persona nel fornire l'immagine pubblicitaria, e dall'altro si vuole rispettare la libertà dell'azienda pubblicitaria di esprimere la propria libertà anche di pensiero o di utilizzare determinate immagini e tendenzialmente gli interessi, soprattutto economici, in questo secondo settore sono assai più forti e questo ci spiega perché noi in televisione molto spesso, sempre più spesso, vediamo immagini che non sono così rispettose della dignità. Queste con cause, io credo, 30 anni di televisione che hanno fatto pensare che fosse tutto normale, un'opposizione che non fa il lavoro da opposizione, un servizio RAI che segue le televisioni private, da ultimo direi anche un paese cattolico dove sicuramente possiamo dire che per il cattolicesimo la reale emancipazione della donna non viene comunque, non viene proposta come un valore portante, ma anzi quasi un po' una sottomissione. è un paese che ha poco rispetto delle leggi e quindi molto meno che per esempio nei paesi anglosassoni rispetta queste leggi che avrebbero fatto sì che per esempio noi abbiamo un bellissimo terzo articolo della Costituzione che ci sarebbe da protezione di tutto quello che invece va in onda. Noi non abbiamo una normativa, questo è vero, cioè non abbiamo una normativa specifica o comunque delle normative trasversali ai vari mezzi di comunicazione che sono tanti perché qui bisogna guardare la televisione, bisogna guardare la carta stampata, bisogna guardare la cartellonistica che ci dica, come dire, che ci ponga dei freni. È di gennaio di quest'anno un accordo fra il Ministero delle Pari Opportunità e l'istituto che si occupa appunto della pubblicità per definire delle linee guida, quindi ancora accordi molto generici laddove se vogliamo la comunità internazionale è vent'anni almeno che ci invita ad assumere degli impegni. Grazie a tutti.